Dopo i recenti attacchi da parte delle forze israeliane, i ministri della difesa del G7 hanno espresso la loro preoccupazione per l'incolumità e la sicurezza delle forze di pace delle Nazioni Unite in Libano. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il loro primo incontro in assoluto a Napoli, i ministri hanno affermato che la protezione delle forze di pace spetta a tutte le parti in conflitto. L'Unifil è stata istituita nel 1978 per ripristinare la sicurezza nel Libano meridionale, comprende 10.000 forze di pace provenienti da 50 paesi tra cui 16 dell'Unione Europea e pattuglia regolarmente il confine tracciato dall'ONU tra Libano e Israele. Nei giorni scorsi l'Unifil ha dichiarato che continuerà a mantenere le sue posizioni nonostante gli avvertimenti di allontanamento da parte di Israele, che considera all'organo uno scudo di Hezbollah. Grazie.